E' vero che c'è grande attesa politica per le regionali del 31 maggio, con sette realtà territoriali nazionali al voto, tra cui il Veneto, ma a proposito di Nord-Est, hanno fornito indicazioni significative anche le anticipate comunali del Trentino Alto Adige, se non altro perché avvenute pure nei due capoluoghi, Trento e Bolzano. Un elemento che spicca anzitutto il crollo di Forza Italia nel pieno rispetto di una crisi identitaria da cui la forza politica berlusconiana fatica ad uscire, chiaramente espresso da percentuali misere che superano a malapena il 4%, denunciando una perdita vicina ai 18 punti. Otto le municipalità trentine, tra cui il Rovereto, 40.000 abitanti, rimandate al ballottaggio del 24 maggio, tutte sopra i 3.000 residenti, ma dove nessun candidato ha superato il fatidico scoglio del 50% di preferenze. A Trento confermato Alessandro Andreatta del Partito Democratico, mentre a Bolzano il primo cittadino uscente, sempre del PD, Luigi Spagnoli, se la vedrà con la timida concorrenza dell'azzurro Alessandro Urzi. Gongola alla Lega, secondo partito nel capoluogo trentino, terzo in quello alto a Tesino. Ulteriore, dato emblematico infine, la flessione dell'SWP, il Suttiroler for Spartai, che lascia sul terreno 4 punti percentuali.